Grazie al dottor Romeo, un'altra particolarità di questi sottotitoli che non ci sono, e lo diciamo adesso, ad inizio della nostra trasmissione, proprio per contestualizzare qual è il problema di cui stiamo parlando questa sera, è anche capire cosa è sottotitolato e cosa non lo è nella televisione italiana, i programmi in dettaglio, perché ci sono delle particolarità, secondo me, interessanti, quindi chiedo a Ida Collu di spiegarci che cosa hanno la possibilità di poter guardare in televisione o di non guardare attualmente i sordi in Italia. Vorrei agganciarmi brevemente all'ultimo intervento del dottor Romeo perché vorrei approfondire un attimino la questione. Onestamente lui ha ammesso che questa gara, questo bando nuovo è stato giocato a ribasso economico sulla pelle dei sordi e il dottor Romeo sa bene quanto ci siamo adirati per questa situazione. Vorrei ricordare però che il contratto di servizio RAI all'articolo 15 prevede che la RAI riconosca la qualità tecnica quale obiettivo strategico della missione del servizio pubblico. E definisce inoltre dei codici standard di qualità tecnica anche in collaborazione con le competenti istituzioni. Inoltre, terzo punto, monitora costantemente la qualità del prodotto, quindi del prodotto tecnico e del servizio. Inoltre, cito, esercita ogni azione preventiva e correttiva al fine di garantire il permanere degli standard di qualità. Quinto punto, assicura un costante rapporto con l'utenza, raccogliendo quindi segnalazioni, suggerimenti e d'eventuali soluzioni a problematiche in sorte di qualità tecnica. Quindi, questi sono i punti e le questioni molto chiare che la RAI conosce bene, perché è stato più volte sollecitato da noi. I sordi sono utenti che pagano il canone, come tutti. Noi non abbiamo mai chiesto sconti e non ne vogliamo in questo senso. L'accessibilità, inoltre, ai programmi televisivi è un diritto di qualsiasi cittadino. E credo che questo diritto debba essere rispettato a pieno, con i tempi di cui si ha bisogno, però deve essere rispettato, perché l'obiettivo, appunto, è che vengano raggiunti questi standard. Però siamo entrati in questo precipizio negli ultimi tre mesi e il 9 marzo si è tenuta la seconda riunione tecnica, il secondo tavolo di confronto con i responsabili della RAI e le altre associazioni. Lì, in quella situazione, abbiamo rilevato altre problematiche che nella prima riunione di gennaio erano emerse e in quell'occasione ci siamo salutati chiedendoci vicendevolmente di monitorare lo standard di qualità dei sottotitoli che noi effettivamente abbiamo svolto e abbiamo consegnato circa 70 pagine di rapporto. La RAI ha fatto la stessa cosa e abbiamo raggiunto lo stesso risultato nel rilevare questo decadimento nella qualità del servizio. Adesso dovremo aspettare un altro mese per vedere se la qualità dei sottotitoli è migliorata, ma abbiamo visto dalla prima incontro al secondo che la qualità non è migliorata, quindi noi chiediamo che questa società, se non è in grado di assolvere quanto di sua competenza, debba essere sostituita, senza aspettare ancora altre situazioni ben peggiori. Noi guardiamo la televisione, una televisione che ci umilia quotidianamente, non siamo più d'accordo. Un esempio che viene proprio da ieri, nel verdetto finale, un film sottotitolato, che poco prima della fine della trasmissione, e doveva emettere proprio il verdetto finale, ha visto i sottotitoli sparire. E, caspita, è chiaro che il problema sono i due, nel servizio pubblico, nella RAI. I sottotitoli nella programmazione pre-registrata e i sottotitoli delle trasmissioni in diretta. Negli ultimi tempi, la RAI ha decisamente incrementato la sottotitolazione in diretta, a discapito di quella dei programmi pre-registrati. Una qualità che però non è stata riscontrata alla pari dell'acumento della quantità. Quindi noi non vogliamo che i programmi pre-registrati diminuiscano, affinché vengano aumentati quelli in diretta. Noi vogliamo entrambe le cose. Il telegiornale di RAI 3 non è sottotitolato in nessuna regione d'Italia ancora. Il contratto di servizio scade a novembre. Questo contratto prevedeva almeno un telegiornale regionale tradotto e finora non abbiamo visto nessun risultato. Cos'altro devo dire? Cosa devo pensare? Non vorrei iniziare una guerra. Quindi non possiamo però più contenere questo malcontento e questa sofferenza e umiliazione che per noi è arrivato a un limito. La tecnologia oggi offre il meglio che si possa chiedere. Il contratto di servizio prevede la salvaguardia della qualità così come la quantità. Quindi questo non vuol dire diminuire i sottotitoli pre-registrati. e quella indiretta. E le trasmissioni in lingua dei segni. Oltre infatti alla sottotitolazione c'è anche la possibilità di vedere alcune trasmissioni in lingua dei segni. Ma queste, se possibile, sono queste possibilità sono ancora meno frequenti della sottotitolazione. A me non resta che girare tutte queste domande al dottor Romeo per cercare, se possibile, di strappargli un impegno almeno nell'incremento di una qualità dei sottotitoli almeno di ritornare a livello precedente che mi sembra di aver capito era quantomeno soddisfacente per i sordi e capire però anche dove andrà a finire questa benedetta quantità perché nel contratto RAI che io ho in mano ce l'abbiamo tutti in mano questa sera si parla di almeno un 60% della programmazione delle reti nazionali sottotitolata invece siamo ancora al 18%. Gli lascio la parola però dopo la pubblicità. Grazie a tutti.